Buffera sulla vendita del Vicenza Calcio. L'amministratore delegato Marco Franchetto dopo aver pagato la rata degli stipendi parla chiaro. Noi per il Vicenza ci siamo e ci saremo. Non possiamo al momento seguire progetti ambiziosi che ci eravamo prefissati perché le cose non sono andate come ci si aspettava. Ma certamente la società non è in svendita. Non accettiamo che siano i potenziali acquirenti a dettare le condizioni. Grazie.